In primo giro abbiamo Transil che fionda con Alberto. Transil non ha ancora debutato, è un cane giovanissimo. Vediamo un po' come si comporta. Prego Alberto, quando vuoi. Ecco la partita. Guardate la velocità di questo cagnolino. Ecco il richiamo, via col salto. E' arrivata. Fate skip. Guardate skip quanto è veloce. Se l'avete visto prima, poi fritti, guardate nella giri fino a scherzio. Mia con molto veloce nel salto. Altro salto. Il padrone a ritardo non c'è niente. Iniziamo. E via sul finale. Bravi.